Una nuova società partecipata che si occuperà dell'attuazione di piani di dismissione degli immobili. È il piano del Comune di Napoli che si prepara a dare vita ad uno strumento con il quale conferire questi cespiti che ora sono inalienabili, come lo Stadio Maradona. E alla vigilia della discussione per il rinnovo della convenzione con il patron del club, Aurelio De Laurentiis, potrebbe essere la chiave per valutare un nuovo patto che contempli, oltre l'opzione Stadio Maradona dove giocare le partite di calcio, anche un'opzione per vendere l'immobile e fare in modo che il Napoli lo possa ristrutturare completamente. Più volte il sindaco partenopeo Gaetano Manfredi aveva affermato che lo Stadio Maradona necessitava di un'ampia e profonda ristrutturazione, soprattutto nella copertura. Per il momento però di questa possibile messa in vendita dello stadio non se n'è mai parlato né al Consiglio Comunale né nella Commissione Sport né in quella infrastrutture preseduta da Nino Simeone, il quale ai nostri microfoni ha provveduto subito a chiarire la situazione. Ho letto anche io l'articolo del giornale quotidiano napoletano di questa vendita dello Stadio Maradona. Non è così, lungi da me la volontà di poter contestare il giornalista che conosco, che sono eccezionale e che probabilmente sa qualcosa più del sottoscritto del Consiglio Comunale, ma in Consiglio Comunale non se n'è mai parlato, nel DUP non c'è segnato, non c'è indicato nessuna vendita di questo immobile. E' sì vero che c'è una mission da parte dell'amministrazione di questa maggioranza di alienare tutti questi immobili o di metterli a reddito, perché è inutile avere tanti immobili magari con la scarsa manutenzione e non poterli utilizzare o utilizzarli male. Questo vale per l'edilizia residenziale pubblica come vale per gli immobili importanti come lo Stadio Maradona, come il Garittone, come tutta una serie di attivi, giusto per fare qualche esempio, la struttura di Stella Polare, ce ne sono tanti. Quindi c'è la volontà di fare questo, ma assolutamente dello Stadio Maradona non si è mai parlato e credo che non ci siano le condizioni. A meno che non viene un ottimo qualche acquirente, diciamo, qualche proposta indecente, siamo in fase di mercato, voglio dire, magari ci propone due o trecento milioni di euro e lì possiamo anche cominciare a ragionare. Credo, ma questo fa parte della volontà di un'amministrazione. Noi non siamo una società privata, probabilmente dovremmo ragionare come tale, ma abbiamo dei vincoli anche rispetto alla Corte dei Conti, abbiamo il dovere di tutelare gli interessi dei cittadini e tutelare gli interessi da punto di vista economico anche dei propri immobili è una questione primaria, non è che si possono regalare.